La giunta regionale va avanti nella predisposizione ed erogazione di aiuti economici in favore delle comunità lucane colpite dalle alluvioni del marzo scorso. Questa volta saranno le aziende zootecniche danneggiate a beneficiare di interventi per un importo totale di 320 mila euro. Il nuovo provvedimento prevede l'erogazione di contributi pari all'80 per cento delle somme per il ripristino della funzionalità delle strutture produttive e con un massimale comunque di 100 mila euro ad azienda in favore di imprese agricole zootecniche del settore lattiero caseario che abbiano subito un danno superiore al 30 per cento della produzione lorda. I danni a fronte dei quali sarà possibile ottenere il contributo sono quelli per il ripristino di scorte, macchinari, attrezzature, strutture e impianti.